Come rompere un panorama così bello in un nanosecondo, c'è solo come tu puoi, veramente. Ale! Mio Dio! Eccolo! Eccolo! Che fatica! Che fatica! Che fatica! Che fatica! Finita la pulizia nasale? Eccolo! Eccolo! Facciamo un resoconto della giornata? Sì! E manca una data, eh! Dillo, dillo, cazzo, dillo! Però fai capire che, insomma, è pieno sotto, che non è soltanto in superficie! Ora lo facciamo capire meglio! Eccolo! Anche a quant'è sto sacco! Ma tu poi rimina un po', va! Che casisci! Previamo la zuppa! Leviamo l'acqua, tanto non serve più! Così si asciugano un pochettino! Così ci vediamo meglio! Ma... Ne ho messo adesso! Cosa? L'acqua? Sì! Occhio! E tienila tu, però! Sì! Io lo so! Raffiniscano tutti l'acqua! Già la rotta l'ho persa! Vabbè, ho... Tutto! 12 sarghi così! Il mare dai! Il mare prende! Via! Sì! Aspetta! 12 sono, le contate? No! Saranno almeno una ventina! Ecco, si si vede! Ma... Tutto il resto sono sarghi! Sì! No! E' una cordina! Ah si con la piccoletta! E' un bel grosso! E' questo! E' bellino! Aspetta! Provaccio il materiale! Come mi dovrebbe ricaricare! Beh che schifo dai! Non aspetta! Dai! Allerioso! Aspetta! Dai fai... Rimino un po' Sopo! Ti devo riminare! E' peso! Insomma ce ne va! Ma non sono tanti dai! No! Per la zuppa stasera ci basta! Per la zuppa ci basta! Per la zuppa! Matt andtalkimi azzuk! Alивistare!